Desiderate essere padroni delle sorti avversarie? State cercando un deck che abbia uno stile di gioco incentrato sull'indebolimento delle linee rivali? Quale deck e quale leader, combinando le loro forze, potranno riuscire in tali intenti? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. I tre capitani hanno iniziato con le loro scorribande e tra tutti, due stanno dettando leggi attualmente ricavandosi un piccolo spazio all'interno del meta attuale, ovvero Luffy e Lo. La variante bicolore di quest'ultimo inizialmente ha suscitato in me un moto di indecisione, non riuscendo a comprendere il funzionamento appieno, ma grazie anche al supporto di Nicolò, un ragazzo che frequenta la fumetteria Grande Inverno, ho iniziato finalmente a capirne le meccaniche, innamorandomi del Medico della Morte e delle sue strategie. Nella profile di oggi quindi andremo ad analizzare le dinamiche che muoveranno questo deck, scoprendone le caratteristiche che lo renderanno pericoloso nel meta attuale e quali saranno le sinergie che offrirà tutti coloro che vorranno vestire i panni del capitano dei pirati Hurt. Prima di continuare, se ancora non lo avete fatto, iscrivetevi al canale, così crescendo potrò portare sempre più contenuti interessanti e ricercati dedicati allo sconfinato universo dei TCG. In più in descrizione troverete anche i link che vi riporteranno al profilo Instagram, dove pubblicherò storie per aggiornarvi su nuove uscite, molto altro ancora, e alla pagina Facebook. Grazie infinite per il supporto, torniamo al video. Ed ora scopriamo insieme la lista del masso di Trafalgar, lo rosso-viola. Andiamo a dargli un'occhiata. Partiamo dal leader, che con i suoi 5.000 punti di forza e 4 vite a supporto, vi consentirà nella vostra fase principale, una volta per turno, di rimbalzare in fondo al mazzo del proprietario un caratter con forza pari a 3.000 o inferiore, permettendovi poi di giocare dalla mano un personaggio con costo 4 o inferiore sul terreno se vi priverete di 3 donne. La decklist in questione quindi orbiterà tutta attorno a due fattori, riduzione costo e ramp, e vedrà il quartetto di Otama, Gordon, Wire, Brook costo 4, Trafalgar Law Film, Ulti, Ain, Saki e Penguin, Traf dello starter 10, Beppo e Page One, con la coppia di Jimbe, sempre dello starter 10, per i character, mentre per gli event saranno presenti unicamente le quattro copie di Roundtable, che chiuderanno questa profile. Le carte cardine di questo mazzo saranno tutte quelle che andranno ad agevolare l'abilità del leader, come, procedendo in ordine di tipologia per i personaggi, le Otama, che svolgeranno anche un'ottima funzione in fase di counter, i due Jimbe, i dencomparate, i Gordon, i Brook e i Law Film, mentre per gli event i quattro table, che riusciranno a portare a tiro dall'effetto del medico della morte qualsiasi personaggio attualmente esistente in gioco. I restanti elementi, invece, vi aiuteranno a rampare, minimizzando i danni che il meno 3 vi potrà infliggere, e grazie a Beppo, Ain, assieme a Penguin e Sachi, il carico di privazione dei don di certo risulterà essere meno pesante. Altra sinergia da tenere bene a mente sarà quella tra ulti e page one, che, in combinazione con l'effetto del leader, vi permetterà con soli quattro don di impiegare ben tre character in un turno, massimizzando la manovra offensiva dell'intero deck, togliendo di mezzo, allo stesso tempo, dei personaggi rivali fastidiosi. Per Wire, invece, appena avrete la possibilità, giocatelo ed innescate nell'abilità all'occorrenza. Il membro dei pirati di Kid vi fornirà supporto sia in fase difensiva che di ciclo del mazzo, fornendovi la possibilità, anche nel turno avversario, di pescare una carta dalla cima del deck, scartandone di seguito un'altra dalla mano. Infine, i Trafalgar Blocker vi schermeranno dagli assalti rivali venendo impiegati con l'effetto del leader, entrando in perfetta sintonia anche con i già menzionati Wire, se innescherete l'effetto del capitano, nell'evenienza che, chi vi giocherà contro, possiederà sette o più carte in suo possesso. Quindi, dopo aver visto l'intera lista e alcune dinamiche che la muovono, passiamo ora a qualche strumento utile per conoscere meglio il mazzo, ponendoci, come sempre, la solita prima domanda. Come funziona questo deck? Non sarà a primo impatto semplice da giocare e dovrete calcolare al millesimo ogni singola mossa per far rientrare perfettamente ogni costo a vostra disposizione, in modo tale da massimizzare, nel migliore dei modi, la presenza di forze alleate sul terreno. L'impiego di Saci e Penguin, Ain e Beppo, inoltre, vi allegiriranno il carico mancante di Don, disponendo di risorse sempre pronte per essere giocate nel turno successivo con micidiale freddezza, e con il supporto fondamentale delle varie fonti di riduzione forza, nessun personaggio avversario potrà dormire sonni tranquilli. Per la fase offensiva, questo deck sarà letteralmente una versione 2.0 del tipico deck Zoo. Più assalti riuscirete a sferrare a singolo turno, meglio sarà, tenendo sempre conto che, già dal vostro terzo turno, se le carte in mano si incastreranno bene, ovviamente, avrete quattro fonti di attacco da scagliare contro l'avversario. Per quella difensiva ci saranno proprio sia i low blocker che i wire, che in combinazione vi permetteranno di mettere i bastoni in mezzo alle ruote, alle dinamiche di gioco di chi vi si ritroverà contro, agevolando allo stesso tempo le vostre. Trattando invece l'argomento mano iniziale, le carte must have da avere saranno di certo un Penguin e Saci o un Beppo, una Ulti con Page One, un Wire e un Round Table. Se sarà così potrete procedere tranquilli, in caso contrario mulligan ed incrociate le dita. Parlando di matchup, ve la giocherete letteralmente contro tutti, dando fastidio a chiunque vi si ritroverà contro. Gli unici che potranno crearvi discreti problemi saranno Luffy Rosso Viola, che con i suoi 6.000 punti di forza la maggior parte delle volte rappresenterà un ostacolo difendendosi semplicemente dietro la sua potenza, i Katakuri, che comunque non faticheranno poco per abbattervi, lasciandoci anche a volte la pelle, e i Doffi Verde Viola, che come per voi avranno un alto tasso di evocazioni per singolo turno. Per la win condition l'unica vostra preoccupazione sarà attaccare, diminuire la forza, effetto leader, gioco pezzo, ripeto. In questo modo avrete sempre forse pronte a scagliarsi contro le vite rivali, prestando e non poco le difese nemiche che dopo i primissimi turni di gioco verranno già messe alle strette se la manovra offensiva andrà in porto. Invece le carte obbligatorie, che non potrete assolutamente sostituire con nessun altro elemento, saranno i Gordon, le Otama, i Brook, i Sachi e Penguin, i Beppo, i Low Film, anche se a volte non vengono neanche giocati, i Traff dello Starter e le Round Table. Per il resto navigate nel lettere per scoprire altre liste che magari si sposeranno meglio con le vostre esigenze. Ed infine per la fase counter avrete a disposizione un intero deck pronto a proteggervi. Questa lista vedrà un numero imbarazzante di counter più 1000 e 2000, 38 per la precisione, suddivisi in 14 più 2000 e 24 più 1000, quindi avrete comunque la possibilità di difendervi alla meglio se i blocker tarderanno ad arrivare. Prima di concludere volevo fornirvi qualche informazione di base in più sull'utilizzo del deck. Lo parte per secondo, dati i suoi numero si droppa a 4 e se riuscirete ad incastrare ogni singola meccanica del mazzo, per chi vi giocherà contro non si metterà bene per niente, soprattutto perché dovrà gestire molti fonti offensive che in breve tempo gli andranno a prosciugare le carte che avrà in mano, scoprendolo quindi in fase di difesa. State comunque attenti a dei ribaltamenti di fronte, perché per voi restare senza carte in mano, soprattutto nelle fasi inoltrate di un match, rappresenterà una sconfitta certa. Ripeto quindi ancora una volta, calcolate ogni vostra singola mossa al millimetro, in modo da non lasciare alcun scampo al vostro avversario. Concludendo, lo sarà un deck davvero molto divertente, soprattutto perché avrete a disposizione molte carte che agevoleranno il compito principale del leader. E a tal proposito, non mancherà occasione di vedere Colossi, appena entrati in campo, essere accompagnati il turno successivo, con grazia e gentilezza, in fondo al deck del proprietario. E voi avete già testato le meccaniche intriganti del medico? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia, noi ci vediamo al prossimo video.